questa puntata dell'ora solare buongiorno e bentrovati o buonasera notte se ci stiamo ritrovando in replica è una puntata che abbiamo pensato con con il cuore più del solito spiego il perché voi sapete ora solare noi raccontiamo storie solari ma abbiamo pensato di raccontarvi storie di medici che vanno e che sono andati e continuano ad andare anche se non ci sono più molto oltre il loro già importantissimo lavoro per questa prima storia sono particolarmente emozionata perché io questo dottore l'ho conosciuto l'ho conosciuto e vi posso garantire era un angelo prestato su questa terra e poi purtroppo richiamato in cielo saluto martina ciabatti fratocchi con un applauso stellare martina ed è una gioia averla qui il bello che ci guardiamo è la prima volta che ci incontriamo questa è la cosa molto particolare martina è la splendida moglie del dottor gian carlo fratocchi giancarlo fratocchi è stato un docente universitario fisioterapista uomo d'oro marito e papà d'oro che appunto ha deciso di ritornare in cielo nella fine di novembre del 2016 martina cara lasciando però una scia di luce a te ai vostri tre figli che basterebbe per cento persone e invece lui era uno solo che persona era è vero perché quando si brilla in vita no anche dopo la morte si questa luce si amplifica secondo me e a lui ha brillato in vita perché comunque ha sempre praticato non la sua professione con grande con io lo dico sempre con grande rigore scientifico no perché era maniaco della dello studio ma anche con un grande amore passione per per l'altro sapeva far camminare i paracarri sapeva rimettere in piedi persone dissestate che avevano bisogno della fisioterapia e lo faceva sempre con una quiete una super professionalità e una grazia speciali ma alla fine quando dicevi dottore cosa devo per il disturbo spesso a tante persone specialmente le persone più bisognose lui diceva niente ad altri diceva però se potete qui è la qui viene la storia se potete allora che cos'era che dovevamo fare se possibile se possibile lui aveva sempre a cuore anche l'altra parte del mondo no dove perché anche qui possiamo avere delle difficoltà delle però c'è una parte del mondo in cui manca tutto tutto l'essenziale no e c'era sempre questa questa visione ampia della della vita del mondo delle delle persone quindi c'era questo impegno che lui ha sempre avuto per per la tanzania dove è stato realizzato praticamente è un po una storia lunga no è un ma ce l'ho più apposta abbiamo tutto il tempo che vogliamo martina è una storia lunga ma una storia bene nel senso che parte da lontano no nel senso giancarlo è uno che decide di non fare il servizio militare no ma di dedicare quel all'epoca erano due anni era 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 punitivo dedicarlo agli altri servizio civile si è messo a disposizione e quella è stata un'esperienza comunque in cui ecco quando poi in cui abbiamo conosciuto tante realtà perché poi ci conoscevamo già sì sì noi ci siamo fidanzati che erano proprio giovanissimi sposati io avevo 24 anni ragazzetti siamo cresciuti insieme questa esperienza del del servizio civile un'esperienza che ci ha formato poi a te lo ha anche lui insomma e quindi e poi questi amici della comunità di capodarco dove lui aveva fatto il servizio civile nel 2006 fondano comunità solidarie nel mondo che si occupa del che ha come progetto quello dei bambini di di curare i bambini disabili nella in africa in particolare in tanzania allora ho saltato una parte ma oggi mescoliamo i ricordi mescoliamo tutto sentirsi al servizio degli altri in tanzania il dottor fratocchi non non si è recato non è andato purtroppo questo era un suo rammarico non c'è mai andato non ha potuto per motivi di salute perché aveva un problema serio al pancreas e non poteva allontanarsi non poteva allontanarsi troppo doveva sempre avere dei medici accanto però è riuscito a fare qualcosa provate ad immaginare di avere un figlio con disabilità parlo le donne allora si viene in quei luoghi si viene abbandonati dal proprio marito si è uno stigma sociale si 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 viene abbandonati perché una vergogna quindi le donne rimangono da sole con i figli segregati in casa poi perché c'è una vergogna il bambino disabile non deve uscire deve rimanere non si deve far vedere non si deve questo progetto nasce proprio per questo per far uscire invece questi bambini per offrire loro quindi riabilitazione ma anche integrazione sociale questo è importante no non è una riabilitazione anche quella certo sì sì e tutto questo giancarlo fratocchi lo faceva da dal suo studio lo faceva dal luogo dove operava viveva lavorava lo ripeto io vorrei sperare voglio sperare di riuscire a farvi arrivare a casa addirittura la voce di quest'uomo anche se non l'ascoltate provate ad immaginare l'abbiamo visto in fotografia una persona soave una persona buona proprio profondamente buona che metteva nel suo lavoro che faceva come come un orologiaio si proprio sistema gli ingranaggi però lui metteva subito davanti quella possibilità se potete fare una donazione un versamento aveva l'aveva questo sogno si è realizzato poi martina si è riusciti si è realizzato perché quindi è nato questo centro nel prima della campagna della in tanzania e in un villaggio sì dove vengono curati tantissimi guardate un po questa cosa non c'era c'era niente e e poi è stato replicato proprio nel quando giancarlo è morto proprio in quel periodo in nella capitale della tanzania dare salemma ed è stato fatto di nuovo questo un altro centro di riabilitazione sempre per bambini dove viene fatto appunto questo lavoro che dicevamo non soltanto come ti sei sentita al momento dell'inaugurazione beh è stata mi commuovo perché sono emozione forte perché eravate lì in due sì ma questo devo essere sincera giancarlo è morto mi manca fisicamente no però ecco in tutto questo io sento forte la sua presenza sei di ferro cosa c'è di più duro del ferro mi manca in questo momento non ho non ho davanti a me era una una buona tabella per indicarvi una cosa più più resistente del ferro però tu lo sei tre figli una mamma papà a questo punto sì però ecco anche in questo io non mi sento sulla nel senso che giancarlo non lo la sua presenza è costante questo io lo spero sperimentato lo sperimento non appena è morto ma anche adesso in tante cose cioè ho detto alle volte mi manca mi manca fisicamente no ma non che non posso dire di non sentirne la presenza nella mia vita nella vita dei figli anche in tanti piccoli momenti gesti situazioni no ecco anche in questo momento per esempio no io ho fatto la punta questa signora letteralmente proprio sapete quando i cani da caccia alzano la zampa la punta per poterla avere qui con noi vi promettiamo di ci ritrovate qui pensate non la posso abbracciare in questo momento io martina questo tempo e ritorniamo tra un attimo abbiamo ancora tantissime storie da raccontarvi e tantissime immagini da farvi vedere e è anche una storia che ci porta fino a cernobyl perché il dottor fratocchi prima di andare in tanzania aveva deciso che cernobyl fosse sufficientemente vicina ci vediamo tra un istante un minuto arriva storie di medici che sanno fare non soltanto benissimo il proprio il proprio lavoro la propria professione ma fanno del bene in maniera totale e totalizzante martina ciabatti fratocchi è la meravigliosa moglie del dottor giancarlo fratocchi vogliamo salutare un'amica in comune maria grazia cucinotta sapete che prima ragazze di casa e maria grazia è una vostra vostra di famiglia amica cara sì amica cara sì lei a lei si deve anche molto della realizzazione del progetto nella capitale della tanzania è stata anche in questo no ecco questa forte amicizia in vita con giancarlo no poi si è tramutata in qualcosa ancora di più bello no sì e dottor fratocchi professore docento universitario fisioterapista aveva e continua a possedere questa questa qualità legare le persone che ha incontrato e questa coda è lunghissima martina è lunghissima è vero è una coda lunga ecco questa questa avete gruppi e fotografie gruppi di famiglia questa è la foto del del matrimonio del era un bambino quando veniva da noi dimitri dimitri attenzione dov'è dimitri giancarlo il primo a sinistra in alto nel ragazzo la maglietta nera ok dimitri al centro dimitri adesso vediamo non eravamo in tanzania aspettate un attimo allora avete presente cernobil cernobil quella coi bambini di cernobil quindi andiamo molto indietro nella storia e che cosa avete deciso di fare voi perché avete sempre deciso di fare tutto insieme cosa avete deciso di fare è conoscendo appunto dimitri no che abbiamo in realtà all'inizio abbiamo ospitato e ci hanno detto ospitate un bambino bielorusso per dieci giorni perché vengono in italia per 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 motivi di salute allontanarsi per loro allontanarsi lì da una zona radioattiva noi che dava giovamento alla salute e e poi praticamente è continuato a venire fino a quando non ha compiuto 18 anni quando è diventato poi maggiorenne e lì abbiamo conosciuto questa realtà che praticamente nel questi ragazzi quando sono ragazzi in orfotrofio quando compiono i 18 anni li lasciano ciao sì li fanno uscire dalla porta e non tornare mai più sì soltanto che le situazioni da cui vengono stanno in orfotrofio sono situazioni sempre drammatiche o genitori alcolizzati o che sono morti insomma situazioni in cui non possono ritornare o comunque se ritornano sono devianti no poi per il futuro e il super dottor fratocchi che cosa ha deciso di fare e quindi venne in mente di fare una casa famiglia in cui potessero essere accolti questi ragazzi una una sorta di transizione no da dal l'orfotrofio dove erano protetti no poi alla vita autonoma come come adulti e quindi nacque questo questa questa casa famiglia dove dove con degli operatori la presenza di alcune persone venivano seguiti e accompagnati al ma quando giancarlo ti portava queste notizie quando in tutto questo tre figli attenzione poi parliamo dei figli e c'è un motivo particolare perché vi riportiamo in africa ma quando ti diceva queste cose cerco di immaginarvi nel tavolo del cartinello a casa se che facciamo prendiamo un bambino di cernobyl l'hanno fatto tutti martina non so ho detto sicuramente l'esperienza del servizio civile mettersi a disposizione ci ha fatto crescere come coppia anche così una coppia accogliente non potevamo pensare la nostra vita in modo diverso cioè questa è una cosa che disse anche emanuele al funerale di giancarlo non è il vostro primo genio si è questa normalità no dell'essere accoglienti cioè fa parte della vita non hanno giancarlo non ha mai vissuto questo come qualcosa di eccezionale cioè non è che ha fatto qualcosa di normale che possiamo fare tutti con il modo in cui possiamo non è che ognuno può fare un piccolo un piccolo gesto un piccolo passo una piccola apertura no e questo rende la vita migliore a tutti ma anche a noi c'è sì cercando di pensare a quale monumento somigli questa donna mentre la guarda lo sto seguendo l'intervista però sto pensando una cosa meravigliosa sacra e poi mi viene in mente poi abbiamo ce n'è ce n'è tante opere alle quali rifarsi ma la guardo così come si guardano le opere d'arte non è un modo gentile di trattare martina fratocchi è semplicemente la verità perché nella tua grande forza tu sei insieme a tuo marito che non ti ha abbandonato e non ti abbandonerà mai tutto questo allora ci ricorda la vita di giancarlo fratocchi quella di un altro medico vittorio trancanelli vittorio trancanelli era un medico chirurgo perugia ha lasciato questa terra nel 1998 è venerabile servo di dio sposato a lia sabatini che ha incontrato il nostro matteo forino per raccontare il suo grande amore suo marito suo marito che viveva per la propria famiglia e per gli altri si assomigliano tantissimo guardate mio marito era un medico che io ho conosciuto quando avevo 15 anni e ci siamo conosciuti così prima era un amico di mio fratello poi ho capito che era un uomo che a me piaceva molto era un uomo buono bravo erano passati sei anni dal nostro matrimonio eravamo felici perché finalmente aspettavamo un bambino invece dopo al 7 arrivato al settimo mese vittorio si è ammalato siamo andati in radiologia fatto una lastra all'addome e dopo un pochino è uscito con questa lastra in mano mi ha detto lia io sto morendo è stato tra la vita e la morte per tanto tempo dopo nove giorni sono andata a partorire e mi ricordo che vittorio mi ha detto forza lia adesso tocca a te il signore ha ascoltato la preghiera veramente e ci siamo potuti ritornare tutti e tre a casa mentre un giorno pregavamo insieme è venuta sotto gli occhi una frase del vangelo che diceva chi accoglie uno di questi piccoli accoglie me e così abbiamo detto ecco come facciamo per avere il signore in casa nostra tutti i giorni e ci siamo aperti all'affito e subito dopo una settimana ci hanno mandato i primi due bambini e dopo otto anni hanno chiamato dall'ospedale stava morendo una caposala che aveva una bambina down e questa caposala che stava in fin di vita veramente ci ha chiesto se per favore potevamo prendere questa bambina il primo giorno che è venuta a casa qui ha alzato la mano e ha detto posso dire una cosa e abbiamo detto certo alessandra che puoi allora mi ha guardato e mi ha detto visto che la mia mamma andata in cielo puoi farmi da mamma poi si è rivolta a vittorio e tu puoi farmi da babbo e poi dopo alessandra sono arrivati tanti altri bambini e poi vittorio ha avuto questa idea di fondare una un'associazione chiamata le querce di mambre vogliamo accogliere in questa associazione le persone che passano che hanno un momento di difficoltà e che per noi però sono sempre il signore dopo sette mesi vittorio si è riammalato in maniera maniera grave e quando era in rianimazione mi ha detto lia mi porti tutti i bambini che abbiamo preso siamo entrati e ci siamo messi tutti intorno al letto di vittorio mi ha preso la mano e mi ha detto vedi lia per questo motivo valeva la pena di vivere vittorio era un bravo medico lui non ha mai preso un soldo a un malato lui diceva che il malato c'era dio qualche collega gli dice ma vittorio non vale però tu c'è troppi ammalati e fate come me poi anche voi ce ne avrete tanti a un attimo vi presentiamo anche enrico solinas che il postulatore della causa di beatificazione di vittorio trancanelli però martina il senso era questo continuare a raccontare quei medici che non si non si sa non si sono fermati alla alla fine della loro giornata nella quale avrebbero comunque fatto del bene avrebbero comunque salvato la vita aiutato persone in gravi difficoltà si va dal medico per questo io penso a quest'uomo e penso tuo marito penso a questo queste 24 ore che non gli bastavano mai no sì sì è vero è vero c'è questa sì in realtà appunto poteva essere soddisfatto del suo lavoro che che svolgeva egregiamente no e poteva dare di tante soddisfazioni però appunto c'è sempre stato questa apertura verso altro no questa Giancarlo è sempre sempre stato colpito e toccato no dagli uomini dalle loro sofferenze dalle sempre insomma nella vita no quindi non gli bastava semplicemente quello che faceva qui ma sempre questa visione più mondiale no del che cosa ti ha lasciato come definiamo la ultima indicazione qui in terra stabilito che insomma ripetiamo stiamo tutti seguendo la sua strada a questo di continuare quello che che lui ha iniziato no cioè in questo questo portare avanti questi progetti che poi erano i suoi ma erano i nostri no in cui ci siamo coinvolti tutti no come famiglia in questo portare 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 avanti vivere vivere ogni giorno sempre pienamente no comunque non essere e questa attenzione sempre all'alto non all'altro non pensare mai al proprio interesse no questa è una cosa che Giancarlo ha distinto guardate questo queste immagini poi torniamo a Vittorio Trancanelli e oggi vi facciamo fare un viaggio lungo l'abbiamo detto avete visto quelle sedie a pulitissimi accurati accurati curati scusatemi dove in maniera molto accurata ecco ci sono peraltro persone formate si a fare questo lavoro quindi il bene non lo state facendo solo a quei bambini e alle loro famiglie a quei ragazzi e le loro famiglie ma ad una comunità intera no questo è molto importante una cosa che appunto Giancarlo ha piaciuto subito di questo progetto è il fatto che sia che non si cali dall'alto no ma cerchi l'aiuto del governo e e soprattutto la forma cioè si passino delle prassi no che noi abbiamo qui da noi e che sono evolute no anche nei paesi in via di sviluppo allora tra un istante vi parliamo di Emanuele Emanuele il primo genito perché ha preso il passaporto ed è andato in Tanzania ma vi riporto a Perugia mi dovete seguire oggi vi prego perché sempre il nostro Matteo Forino ha incontrato il postulatore della causa di beatificazione del dottor Vittorio Trancanelli quando e ci siamo fermati a questo punto abbiamo sentito sua moglie quando stava morendo ha voluto tutti i suoi figli attorno a letto anche per spiegare per dire che la sola cosa che conti la vera ricchezza che tu porti dall'altra parte è sapere di aver fatto il bene lo ha fatto Vittorio Trancanelli come l'ha fatto il nostro dottore e Matteo Forino ci racconta attraverso le parole del suo postulatore che cosa stia accadendo vediamo Vittorio era un santo medico e tanti lo hanno paragonato a Giuseppe Moscati questo che ho qui davanti è la posizio super virtutibus di Vittorio Trancanelli sono circa mille pagine il lavoro che come postulatore della causa ho realizzato ci sono testimonianze tutte di persone che lo hanno conosciuto direttamente il vescovo Garetti nel 2006 decise di portare al congresso di Verona Vittorio Trancanelli e lì iniziò la causa di canonizzazione questo è stato il passo che fatto sì che Vittorio Trancanelli da servo di Dio passasse a venerabile attualmente l'attore della causa è l'arcivescovo Gualtiero Bassetti il quale è legatissimo a Vittorio dico questo perché quando è stato male lui ha implorato finché Dio tramite l'intercessione del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli potesse accettare la volontà qualunque fosse del Signore per la sua vita Vittorio in questo momento è venerabile servo di Dio che significa? significa che ognuno può chiedere al Signore che per intercessione del venerabile servo di Dio possa concedere quel miracolo che il Signore permette grazie all'intercessione del venerabile e questo miracolo porterà alla gloria degli altari Vittorio cioè Vittorio diventerà beato grazie e grazie al nostro Matteo Forino queste sono le storie che noi amiamo raccontarvi dunque Emanuele Fratocchi che oggi ha? 24 anni è diventato un omone 1,90 un omone in tutti i sensi un omone, Emanuele non te la prendere intesa come grandezza no? grande a 360 gradi perché lui adesso è il ponte tra voi e quella Tanzania tanto cara a Giancarlo sì sì perché quando sono tornata nel 14 febbraio del 2019 è stato inaugurato il centro la cui palestra è dedicata a Giancarlo quello in Tanzania sono e quindi sono stata l'inaugurazione e poi appena tornata Emanuele si è laureato in ingegneria gestionale e quindi a un certo punto quindi parlavamo insomma della Tanzania ti raccontavo di qua e di là insomma però mentre mentre tornava questa è la cosa bella perché mentre tornavo dalla Tanzania nell'aereo no pensavo come sarebbe bello no se i nostri figli condividessero questa esperienza però da genitore da genitore c'è comunque queste sono cose che devono nascere dentro di loro non gliele poi non glielo puoi imporre non glielo puoi imporre no? cioè mi sarebbe piaciuto che i genitori in gamba non lo impongono no non lo puoi imporre perché si nel senso tutti gli trasmetti tante cose no? le trasmetti poi dopo sono loro che fanno le scelte come come viverle quelle quelle cose che tu gli hai trasmesso questo è molto importante per me insomma così a un certo punto una sera mi fa mamma non prenderla male però io ho pensato una cosa io sono preoccupata dico oddio adesso che cosa? che succede ora? che succede? no io aveva appunto si era laureato non poteva iscriversi subito alla specialistica perché comunque si era laureato a marzo quindi doveva aspettare settembre ho detto io ho questo tempo vedi papà poi in fondo non ci ha mai potuto andare in Tanzania voleva farlo adesso non ho figura e niente quindi decide così in dieci giorni vabbè parto e è partito si vede dalle foto è partito ed è andata a fare il manovale in Tanzania è proprio figlio vostro eh no perché adesso scusate io mi laureo ho tempo mamma ti devo dire una cosa e non ci sarebbe niente di male a dire voglio fare un viaggio voglio andare voglio voglio girare il mondo voglio prendermi una vacanza voglio no mamma voglio andare a fare il manovale in Tanzania per costruire la palestra per esempio la palestra è dedicata a Giancarlo Fratocchi ovviamente quella palestra si chiama Giancarlo Fratocchi e quindi tu te lo sei visto con la si è presa partita così veramente in dieci giorni ma che strano ma che strano cioè si è organizzato ho fatto vaccinazioni passaporto io non vado il passaporto perché si era rossa i sacchi somigli si infatti infatti eh Martina si qua piangiamo e ridiamo oggi però il senso è questo no? no 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 infatti in questo sì io ci ho rivisto il padre cioè Giancarlo no tutto quello che gli ha trasmesso che ha trasmesso i figli ma quando tu hai conosciuto Giancarlo che eravate appunto ragazzino ma un bambino che cos'è che ti ha fatto innamorare perdutamente di questo ragazzo ma in realtà è la cosa che stava perché noi ci conoscevamo noi abitavamo uno di fronte l'altro proprio ci conosciamo da bambini e il mio fratello coetano suo giocavano sotto casa così quindi poi non so in realtà dopo dopo parecchie cioè sei quelle persone che vedi sempre no? e poi ad un certo punto di le vedi sotto con altri occhi le vedi? le vedi sì cambia cambia completamente e beh di lui sicuramente la dolcezza la tenerezza anche se poteva sembrare molto austero cioè nel lavoro era molto professionale no così però era molto molto tenero e questo mi ha colpito di lui invece lei proprio nel senso ci sono trovati questo questo è quello che volevamo volevamo significare con questa storia dunque la foto in palestra questa è quella della palestra dico bene? ecco perché scusatemi la vedo la vedo tra un istante la foto ce l'ho alle spalle solo per questo no direte eccolo qua ecco questa foto teniamola teniamola per un istante per favore questo è Giancarlo questo è proprio lui questo è proprio lui questo è proprio lui è proprio lui senza il camice così senza il camice no cioè non il dottor Fratocchi ma Giancarlo sorridente sì sempre solare sempre sorridente no? anche anche nella malattia era stato non l'ha fatta pesare? no 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 non l'ha fatta pesare assolutamente è stato l'ha vissuta con consapevolezza ma mai con questa questa è una caratteristica di Giancarlo lui sapeva scherzare e ridere di tutto anche delle cose più drammatiche quando fece la tac per vedere se aveva le metastasi al cervello voglio dire cioè uno sarebbe lui anche in quell'occasione aveva la battuta il sorriso l'umorismo non l'ha mai perso nemmeno cioè fino alla fine fino fino a quando quando poi ha perso conoscenza però è sempre stato molto molto solare no? e poi anche questo il fatto di aver saputo condividere con noi il momento della morte no? anche quello parlarne con i figli non cioè è molto importante no? a noi ci ha aiutato tutti perché abbiamo percepito no? cioè abbiamo pianto insieme con una persona viva no? non abbiamo pianto un morto noi cioè abbiamo e questa è una cosa molto importante no? che non c'ha cioè il dolore ce l'abbiamo ce l'abbiamo avuto ce lo portiamo dietro però ti dà serenità anche di fronte ad un evento così drammatico come la morte di un padre giovane no? Federico aveva 53 anni e il piccolo aveva 10 anni però ecco anche a lui si è stato capace di spiegare la morte no? e questo mi ha fatto anche capire che comunque veramente si può parlare di tutto basta trovare le parole e soprattutto condividere un momento così forte e drammatico è d'aiuto per tutti liberatorio per Giancarlo perché voglio dire ho detto abbiamo pianto insieme no? questo è molto importante era una storia che ci tenevo più della vita mia a presentarmi guardate di tre anni di lavoro eh cioè siamo insieme da tre anni noi ci conosciamo con l'ora solare da tre anni ci tenevo più di qualsiasi altra storia possibile anche quelle che non vi ho ancora raccontato è una cattedrale Martina Fratocchi scegliete voi la località è una cattedrale questa donna meravigliosa donna moglie di un meraviglioso uomo e dottore Giancarlo Fratocchi grazie di essere stata con noi Martina grazie a te Paola ci fermiamo per un attimo grazie boom allora continuiamo il viaggio nella storia dei beati vissuti nel secolo scorso quindi insomma i più vicini che possiate immaginare a noi torna Don Luca Baraldi grazie grazie Don Luca parroco di San Giuseppe a Carpi è responsabile dell'ufficio liturgico della diocesi di Carpi e vi presentiamo la storia di un grande uomo Joseph Mayr Nusser Iosef Iosef è più corretto dire Iosef nasce nel 1910 in provincia di Bolzano muore nel 1945 questo purtroppo già profuma ed è così di guerra e della tragedia della seconda guerra mondiale proclamato beato nel 2017 nel duomo di Bolzano e noi c'eravamo visti già per Odoardo Focherini Don Luca ecco quest'uomo nella sua breve vita che capolavoro è riuscito a realizzare? il capolavoro di una normalità straordinaria una normalità che il vescovo di Bolzano Bressanone Monsignor Muser definisce come una bussola il beato Iosef è veramente una bussola per i credenti e credo che con questa immagine il vescovo suggerisca qualcosa di importante una bussola serve per dire la verità e serve anche nei momenti di smarrimento per ritrovarsi per ritrovare l'orizzonte per ritrovare la direzione ma anche per ritrovare se stessi e mi sembra che nella figura di Mair Nusser ci sia questo aspetto un uomo che ha costantemente ritrovato e permesso anche alle persone che aveva accanto di ritrovare quella giovinezza che tante volte penso per le difficoltà della vita per le situazioni di tensione anche quella che stiamo vivendo in questi giorni in questi mesi con il Covid ecco ritrovare la giovinezza che per lui ha significato ritrovare quella consapevolezza di un fuoco messo nel profondo della coscienza lui si esprimeva se posso fare una piccola citazione con queste parole c'è una gioventù che procede ad occhi aperti che porta la luce della verità una gioventù che è profondamente nauseata dalla superficialità sono parole che potremmo applicare in qualsiasi tempo della vita purtroppo lui le applica in un tempo molto molto complesso e molto difficile però sono parole che che credo possiamo applicare ai nostri giovani di oggi parlano dell'oggi arriviamo tra un istante andiamo a Bolzano ci colleghiamo con Bolzano via Skype con Paolo Valente che saluto e ringrazio direttore della Caritas della diocesi di Bolzano Bressanone storico e giornalista ben arrivato direttore buongiorno buongiorno a lei allora lei ha scritto un libro su Mein Nusser fedeltà e coraggio cito anche come sempre l'editore alfabeta quest'uomo avrebbe potuto ci racconti un po' la vita quest'uomo avrebbe potuto andare altrove in un tempo sciagurato dove il nazismo arrivava come la notte più nera del nero a colpire quei territori e rimase fedele al suo essere il nord al suo essere bussola certo noi conosciamo in modo particolare Josef per la sua scelta ultima o per il suo atto ultimo che è stato il rifiuto di giurare fedeltà a Adolf Hitler però naturalmente questo atto è il punto di arrivo di un percorso che come ha già detto Don Luca è un percorso relativamente normale ordinario un percorso che può fare e che fa chiunque di noi quando prende sul serio la propria vita e la propria chiamata insomma una vita normale e quando dico normale ovviamente direttore faccio un po' fatica perché però è quella è quella normalità che ha prodotto per lui e lei giustamente dice conosciamo l'ultimo atto quello poi che lo porterà a morire però costellata di gesti belli di vicinanza alla propria gente di quest'amore per i giovani lui giovane ora si noi lo vediamo in questa foto insomma ma quest'uomo all'epoca anche quando si avevano 30 anni si sembrava tanto grandi invece in realtà si era uomini giovanissimi ma prima ancora il suo rapporto con i giovani era stato un rapporto importante fin dall'inizio Certo direi che importante sia per quanto riguarda le relazioni con le persone ma anche la dimensione comunitaria centrale proprio nella crescita di Iosef è la dimensione comunitaria ovvero trovarsi insieme con altri mettere in comune quello che si ha riflettere insieme in modo particolare stiamo parlando del periodo tra le due tra le due guerre quindi quando anche una terra come l'Alto Adige è stata tra due dittature non solo una ecco insieme questi giovani di azione cattolica lui poi sarà loro responsabile dal 1934 confrontano la loro vita la realtà che vivono e anche gli scritti del nazismo e del fascismo con il Vangelo e riescono a capire molto bene che queste cose sono assolutamente inconciliabili è così che loro lavorano studiando insieme discutendo insieme pregando anche insieme lavorano alla formazione della propria coscienza è proprio da lì che poi scaturiscono le scelte perché naturalmente una coscienza formata di fronte a una situazione che rappresenta un bivio non dico che non ha dubbi però si pone la domanda del bene e del male e fa la sua scelta indipendentemente dalle conseguenze mentre ci parla il direttore della Caritas della diocesi di Bolzano Bressanone Paolo Valente abbiamo questa fotografia l'avete già vista però chiedo gentilmente alla regia di riproporcela mi viene da pensare guardate tutti quei giovani che sono seduti intorno a Josef Mayer Don Luca quanto bene ha fatto quest'uomo perché la stessa gioventù che altrove veniva rovinata da ideologie criminali incontrando una persona degna incontrando una persona beata per la quale insomma si sta che arriverà che arriverà all'onore degli altari ecco tutti quei giovani hanno avuto la possibilità di essere altre persone nella propria vita credo che abbiano avuto la possibilità di trovare come uno specchio per vedere la verità più autentica di se stessi a me sembra che come diceva anche Paolo nella sua vita Josef e anche attraverso i suoi scritti abbia incoraggiato le persone a quello scavo interiore che permette di incontrare Cristo dentro di sé lo Spirito Santo dentro di sé e con questa forza e con questa luce allora non si deve avere più paura di niente non si deve più temere nulla e nessuno neanche le ideologie più dure è meglio perdere la vita dice Josef Meyer piuttosto che abbandonare la via del dovere viene condannato a morte viene caricato su un carro bestiame e questo carro bestiame si mi correga Don Luca ma insomma si ferma è costretto ad una lunghissima questo treno è costretto ad una lunghissima sosta e in questa lunghissima sosta quest'uomo morirà di stenti di di muore muore della malvagità umana questo uomo muore il 24 febbraio del 1945 a Derlangen e appunto in questo viaggio che lo avrebbe dovuto condurre in campo di concentramento per la sua eliminazione e credo che sia importante ciò che è stato trovato accanto al suo cadavere quando appunto oramai deperito è morto per gli stenti per la fame e per quello che gli avevano fatto partire in questo viaggio disumano e cioè una piccola copia del Vangelo e un piccolo messale con il testo latino e il testo tedesco a fronte a dire che quell'uomo era riuscito ad arrivare a sostenere la vita degli altri era riuscito ad arrivare al coraggio che era riuscito a fare proprio grazie a questo cibo la parola del Signore l'eucarestia un'eucarestia vissuta in tutta la sua profondità come chiesa italiana stiamo vivendo un tempo nel quale i vescovi ci stanno ridonando il messale in una nuova traduzione e credo che sia bello lasciarsi spingere da Iosef nel prendere sul serio questo dono che non è semplicemente delle formule nuove ma è veramente una preghiera come diceva Paolo della comunità il corpo di Cristo Cristo stesso che prega Iosef diceva l'eucarestia è un tesoro nascosto e subito ci viene in mente la parabola quella parabola che secondo me ha un aspetto molto bello mette in azione un valore supplementare per ogni singolo elemento della vita di quell'uomo che dal tesoro è stato trovato perché va vende e grazie alla vendita di ogni cosa casomai cose che prese a sé stanti non valevano niente ma vendute diventano degne di quel tesoro se l'eucarestia è il tesoro nascosto allora è quella realtà che fa capire il valore specifico di ogni frammento di ogni cellula di ogni scintilla della nostra esistenza e questo credo che sia il dono grande nel quale ancora Maier Nusser ci orienta come una bussola torniamo tra un istante siamo nuovamente a Bolzano da Paolo Valente Don Luca torniamo a lei e a questo simbolo che lei ha simbolo a questo oggetto che lei ha voluto citare la bussola la bussola ti dice sempre la verità se tu stai cercando il nord ti dice che il nord è da quella parte tu puoi essere convinto che il nord stia da un'altra parte ma la bussola ti dice guarda che è lì se me lo chiedi io ti dico che devi andare di là allora l'attualità del messaggio di un uomo così che diventerà santo e se lo merita l'attualità oggi oggi no Luca qual è? ritorniamo su questo discorso l'attualità è quella di offrire un orientamento oriente sapete è una parola che dice il sole che sorge viene dal latino e quindi ci dice che anche le nostre vite sono fatte per essere illuminate da questo sole che Simeone identifica con Gesù il vecchio Simeone nel Nuovo Testamento allora per me Joseph Meirnusser è una bussola che dice rivolgetevi ad oriente siamo in un tempo che sembra scuro siamo in un tempo che sembra deprimente per certi versi rivolgetevi ad oriente e lì c'è una luce che sorge e che fa riverberare le vostre vite di una luce diversa di uno scintillio differente questo secondo me è importante da non dimenticare proprio oggi Luca sorge e risorge anche per persone che si trovino in un tempo oscuro penso soprattutto e quindi c'è sempre una possibilità i beati ci aspettano sono hanno anche la dote della pazienza e ci stanno accanto mentre ci aspettano e non smettono di starci accanto per chi volesse verrà il giorno in cui riusciremo a ritornare a viaggiare a muoverci torno da Paolo Valente è sepolto nel Duomo di Bolzano voi direte ma come morto in un in un carro bestiame certamente Valente fu non posso neanche dire sepolto alla bene e meglio in quel momento però è tornato a casa sua certo le sue tappe sono partenza da Bolzano nel settembre del 44 la sua testimonianza il 4 ottobre del 44 a Konitz oggi Polonia dove avveniva l'addestramento delle SS lì quel giorno si alza in piedi e dice signor maresciallo io non posso giurare fedeltà a Hitler a seguito di questo atto di questa testimonianza viene arrestato e poi condotto a Dachau la strada per Dachau Erlangen dove muore dove rimarrà nel cimitero per 13 anni finché nel 58 si riesce a riportarlo a casa ma non del tutto a casa non a Bolzano sul renon sopra Bolzano perché in un certo senso Josef ancora oggi ma in modo particolare negli anni immediatamente dopo la guerra è stato ed è un beato scomodo perché quel giorno mentre lui ha detto no al giuramento tutti gli altri hanno detto sì questa è la sua testimonianza dunque un beato scomodo che è ritornato nella sua casa quindi nel duomo di Bolzano dove è stato battezzato nel 1910 solo al momento della sua beatificazione nel 2017 oggi la sua tomba è nel duomo di Bolzano quindi è un ritorno a casa e un'accoglienza da parte della città di Bolzano di un beato scomodo ma a noi piacciono tanto le persone scomode come sono belle le persone scomode cambiano il mondo le persone scomode Paolo Valente direttore della Caritas della diocesi di Bolzano Bressanone grazie di essere stato con noi grazie davvero grazie a voi e grazie facciamo tornare a Carpi Don Luca Baraldi grazie per quell'Oriente e per quella quel sorgere del sole a cui ha fatto riferimento Joseph Meirnusser ci tenevamo a presentarvi questa storia è successa un attimo fa era l'ultimo atto della seconda guerra mondiale con il suo carico di morte dire di sì gli sarebbe costato niente avrebbe detto di sì avrebbe avuto salva la vita ha detto di no e noi oggi abbiamo parlato di lui l'ora solare da lunedì al venerdì alle 14 lo sapete ma mi piace tanto ripeterlo grazie a tutti grazie grazie Luca grazie